La Procura Generale presso la Corte d'Appello di Bari ha chiesto sei condanne per gli imputati nel processo cosiddetto G. Bansa sulle presunte sentenze tributarie pilotate. Si tratta del processo di secondo grado nei confronti di coloro che avevano scelto il rito abbreviato. Quattro dei sei imputati erano già stati condannati in primo grado dal GUP e per loro l'accusa ha chiesto la conferma delle condanne. Si tratta del giudice Aldo Dinella, otto mesi di reclusione con pena sospesa. Di Sesto Quintavalle, fratello del giudice Ronzo Quintavalle, a giudizio nell'ambito dello stesso procedimento con altre 23 persone, due anni e quattro mesi. Di Cosimo Cafani, ex presidente dell'Associazione Nazionale Tributaristi Italiani in sezione di Bari. E di Francesco Della Corte, consulente della società Giovanni Putignano e figli SRL, condannati a due anni di reclusione con pena sospesa. Di Vincenzo Agrimano, sei mesi in pena sospesa. Chieste condanne per due imputati all'epoca assolti a un anno e sei mesi di reclusione per l'ex presidente dell'Ordine dei Commercialisti di Bari, Giorgio Treglia, a due anni per l'allora direttore della Commissione Tributaria Provinciale di Bari, Giovanni Carone. Il processo continuerà il prossimo 11 marzo con la discussione della parte civile e dei difensori degli imputati accusati a vario titolo di corruzione in atti giudiziari, riciclaggio e falso.